giustizia ai cittadini. Siamo evidentemente, Ministro, di fronte ad un fenomeno di solitudine istituzionale. Il giudice, Ministro, deve essere persepito come colui che tutela i diritti di tutti i cittadini innanzi alla legge. Grave errore spesso lasciare solo i magistrati, necessario proteggere la loro incolumità. Per fare questo è necessario impiegare e non togliere risorse come state facendo nei confronti, ad esempio, come già ricordato, degli idonei, forze pronte ad un impiego immediato. Si attivi, Ministro, si attivi affinché, a fronte della strage del Tribunale di Milano, sebbene purtroppo in ritardo, si incrementi la sicurezza impiegando le nostre forze di polizia, che, seppur operando in completa confusione, meritano, come ricordato spesso dalle principali sigle sindacali, risposte certe ed in tempi brevissimi. Grazie. La ringrazio, è così esaurita l'informativa urgente. Comunico che la Presidente della Camera ha chiamato a far parte della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'iniziativa centro-europea la deputata Gianna Malisani, in sostituzione del deputato Dario Ginefra di missionario. Comunico che è deceduto l'onorevole Franco Busetto, già membro della Camera dei Deputati dalla terza alla sesta legislatura. La Presidenza della Camera ha già fatto per venire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidera ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea. Chiede di intervenire per interventi fine seduta il deputato Naccarato. Colgo l'occasione per salutare studenti e docenti della scuola media statale Rodari Iussi, San Lazzaro di Savena, Bologna, che seguono i nostri lavori. Prego al collega Naccarato. Sì Presidente, come appena ricordato è morto ieri a Padova Franco Busetto, deputato del Partito Comunista Italiano per quattro legislature. Busetto nacque a Napoli nel 1921 e nel 1937 conseguì il diploma di maturità classica al liceo Tito Livio di Padova e si iscrisse alla facoltà di ingegneria. Richiamato alle armi partecipò alla Seconda Guerra Mondiale come sottotenente degli Alpini nella divisione Iulia in Francia e in Jugoslavia e dopo l'8 settembre aderì alla Resistenza e si iscrisse al Partito Comunista Italiano.